Ciao a tutti, sono Daniele, ho seguito il Digital Certification Program, che è il corso più completo del panorama dei corsi di Digital Coach e comprende uno stage garantito. Ho iniziato a seguire in aula da gennaio con il modulo di Social Media Marketing, adesso invece sto frequentando sempre qua in aula i moduli di Web Marketing come SEO, SEM, Inbound Marketing, Lead Generation, E-mail Marketing e gli altri. Mi trovo molto bene, mi sono trovato molto bene sino ad oggi perché qui in aula ho avuto modo di conoscere tantissimi ragazzi come me appassionati di Web Marketing e questo ti dà quel qualcosa in più che ti spinge a seguire ogni sera perché comunque è pesante andare in aula ogni sera dopo che magari lavori tutto il giorno, però appunto la presenza di persone che poi diventano amiche, quindi diventano i tuoi amici e che ti accompagnano per tutto il percorso ti dà quel qualcosa in più oltre appunto alla conoscere di persone, i docenti e interagire di persona con loro per andare avanti e portare a termine questo percorso molto importante. Ho seguito alcune volte anche in modalità online perché era impossibilitato di venire in aula e questo comunque non inficia minimamente la qualità della lezione, infatti si ha modo di interagire in tempo reale con i docenti tramite la chat e quindi non crea nessun tipo di problema nell'apprendimento delle nozioni. Al momento sto anche svolgendo uno stage presso Google Biziant come SEM Optimizer, questo grazie a Digital Coach che mi ha fornito la possibilità di fare colloqui e quindi poi di essere preso per questa grande occasione che spero sarà importante per la mia carriera futura nel digital marketing.